Il libro di questa sera è stato scritto da un collega, Tito Giliberto, collega del TG5, e si intitola Cogne e altri amori, ma è un romanzo, non è in realtà un lavoro di cronaca. Beh, su Cogne è stato scritto tantissimo, questo però è un romanzo e gli altri amori, che è una terminologia che sembra stridente rispetto alla vicenda di Cogne, sono anche altri fatti di cronaca ed è la passione per il giornalismo, perché racconta i fatti reali raccontati dalla televisione fra il 2002 e il 2004, perciò dallo schianto sul grattacielo Pirelli dell'aereo, appunto come è raccontato all'inizio del romanzo, perché si tratta appunto di un romanzo fino alle vicende di Pavarotti, poi ci sono Michelle Unziker, c'è anche citata Cristina Parodi, è la televisione che tutti vediamo attraverso lo schermo, ma raccontata dall'altro lato, la fatica, l'impegno di tanti anche tecnici, di operatori, di montatori, che non si vedono perché non è semplicemente una finestra a cui affacciarsi. Il sottotitolo infatti è Vita a pezzi di un cronista televisivo, che sei te in qualche modo. Beh, non è un romanzo autobiografico, ho rubato tanti episodi veri, dai cronisti colleghi che hanno vissuto la vicenda Franzoni, che hanno vissuto tante altre vicende, che hanno seguito il caso Tenko, e li ho concentrati in un unico personaggio, proprio perché in un certo senso questo è il filo conduttore di una vita frammentata, frammentata come è frammentato il linguaggio della televisione. In un telegiornale si passa attraverso tanti argomenti drammatici e meno drammatici, e anche questo romanzo ha una capacità descrittiva, spero, di tipo televisivo. Allora, Cogne e altri amori, il romanzo di Tito Giliberto, pubblicato da Vertigo.